Ricchi, ricchissimi, praticamente mutande, i luoghi parte 1. A Via Reggio possiamo trovare l'apertura dell'episodio con Lino Baffi, che si trova in via Arcopolo. Si riconoscono i palazzi alle loro spalle, rimasti identici. In Dali Carducci avrò fatto qualche ripresa esterna dove appare anche il Grand Hotel Principe di Piemonte, me ne ho già parlato in un video. Spostandoci invece a Nivorno, in via Verdi, troviamo l'impresa funebre, che ora è un negozio di allenamento. E altre locations che metterò nella seconda parte. Like e commento per vederla. Ciao!